Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video, io sono Ilaria e oggi vi parlo dei miei ultimi acquisti, quindi video haul. Ovviamente ormai vi ho fatto una testa tanta con il fatto che a breve dovrò partire, andare a Los Angeles, quindi mi serviva qualcosa di carino da mettere e quindi mi sono data un po' alla pazza gioia dello shopping. La vera domanda è Ilaria, alla fine hai trovato qualcosa che ti soddissi al 100%? Non lo so, perché come nell'ultimo video haul, che in realtà era un trial haul e questo sarà un nulla normale, questa sarà la prima parte e poi ci sarà la seconda, quindi mi vedrete magari in una condizione un po' diversa, perché mi devono ancora arrivare altri pacchetti, quindi faccio prima a fare così. PS prima di iniziare, perdonate il fatto che io non abbia un'unghia, ma ho avuto un piccolo incidente di percorso, quindi sì, è bruttissimo da vedere, io lo odio, ma non posso fare altrimenti. Detto ciò, iniziamo! Partiamo da Bershka, stavolta sono andata in negozio, strano davvero, quindi non ho fatto acquisti solo online. Prima di tutto vi faccio vedere questo accessorio che ho già messo al telefono, che è una di queste appunto catenelle, molto molto carina. Non so perché, ma io ricollego molto spesso, sarà per la canzone Butterfly, non lo so. La farfalla, il simbolo della farfalla, ha i BTS, quindi ho trovato questa che era troppo carina. Vedete che qui ha una farfallina, poi è tutta su Lilla, non a caso, con scritto Call Me Baby e poi vedete anche altre farfalline, così potete leggere anche il codice e il prezzo. Dopodiché, sempre rimanendo su Lilla, io vado sempre in giro con uno zainetto, nella vita di tutti i giorni, perché lo trovo molto più comodo, ci entrano più cose, ok? Però, per stare lì, magari a volte mi servirà switchare spesso con una borsa un po' più piccola, una cosa un po' più comoda. E quindi ho detto, prendiamo un mini portafoglio, perché io ce l'ho, però ne ho solo uno nero. E ho trovato questo che era troppo carino, ovviamente Lilla. Tanto io vado sul nero o sul Lilla. Sono veramente una persona monotona. E questo è troppo carino, perché, confronto agli altri portafogli piccolini che io ho trovato in giro, ha anche la sezione per le monete. Quindi è super comodo, poi ha il bottoncino ed è piccolo. Vi faccio sempre vedere il codice e il prezzo. Sempre parlando di borse, ho preso questa, che in realtà era lì alla cassa, che mi stava aspettando palesemente, quindi ho detto, vai, prendi. Ed è una borsetta fatta in questo modo, sempre, sempre Lilla. Però guardate, cioè, non a caso matcha tutto. Mi piaceva un sacco perché ha questa catenella che adesso va molto, poi io adoro la fantasia pitonata, quindi ciao. Ed è una borsettina da spalla, perché la mettete così, piccolina, e ci sta. Questa qui non ho il codice, perché non aveva il cartellino, che l'ho pagata 15,99. Dopodiché ho preso due cose molto basiche, che in realtà vi ho fatto anche vedere nel vlog. Questa qui la vedete indossata. Che è un toppino nero, molto 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 semplice. È corta, ma in realtà è anche lunghetta, per la categoria delle maglie corte, diciamo così. Maniche lunghe, ha costine, spero si veda qualcosa. E mi piace un sacco perché fascia benissimo il seno, essendo che vedete ha tutta questa sorta di nodo sul davanti. E questa qui l'ho pagata 15,99. Ultima cosa, viva la comodità, viva il nero, come sempre, una tuta, molto molto semplice. Mi piaceva un sacco perché ha questo mega elastico, super comodo in vita, arricciato, quindi non ha tutti i laccetti, tutte le stringhe. Poi in realtà cade abbastanza normale, come una tuta, e ha l'elasticetto anche alla fine. Vi faccio sempre vedere il codice e il prezzo. Poi sono passata al volo da H&M perché mi si era bucato i leggings che mi si era strappato su un coso della macchina, non lo so, scendendo. Quindi ho detto vado, passo a prendere un nuovo leggings. Quindi ho preso un leggings che vabbè non vi faccio vedere perché sta già a lavare. E poi ho trovato questo toppino che in realtà è della stessa linea dei leggings. Quindi sempre fatto a costine ed è troppo troppo carino. Visto così sembra piccolo, ma in realtà affascia bene ed è molto più lungo perché è super super elastico. Vi faccio vedere sempre l'etichettina e il prezzo. Poi con la partecipazione di Amarok dietro, non so che cosa... Che cosa succede? Ah, sta giocando con l'ossetto. Vi faccio vedere un pacchetto di Asos con anche una cosa di Shane perché mi hanno diviso l'ordine in più pacchetti. Quindi mi è arrivata una cosa. Quindi vi faccio prima vedere questa cosa di Shane che mi piace un casino. Vi cerco anche l'immagine sull'applicazione così la capite. È questa maglia qua, trasparentina, tutta effetto marble, bianca e nera. L'ho pagata 7 euro ed è veramente carina. Questa è molto probabile che me la vedrete indosso lì a Los Angeles quando mi vedrete fare i 1800 vlog che ho in mente. È carina perché è corta però è larghina quindi non è proprio super 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 aderente. Ho provato a riprendere degli occhiali perché quelli vi ho fatto vedere l'ultimo haul. Alla fine li ho rimandati tutti indietro. Quindi ho preso questo che molto probabilmente verrà con me a LA perché è stupendo. Fatto in questo modo. Tutto plastificoso ma viola. Ma è proprio futuristico. E poi vi fa vedere proprio il mondo viola quindi è proprio super super carino. Poi ho preso un altro occhiale. Questo è molto... ve l'ho riposito anche nel vlog che vi ho dato un piccolo spoiler di tutte queste cose. Pagato 9 euro. Fa molto hobby dynamite era. Cioè guardatelo. È carino però non mi convince l'arancio. Cioè se lo guardate come sto acconciata oggi capito magari con l'outfit nero, la pelle un po' così. Voi direte sì ci stanno. Non lo so sto ancora valutando per questi. Poi c'è questo che ho pagato 9,75 che è una catenina per gli occhiali appunto. Vedete? Ha questa parte che si incastra. Questi voi li avete così. Non mi piace il fatto che fasci la testa. Forse vanno tipo davanti. Poi iniziamo con le cose da vestire. Ovviamente sempre che potete fare o lilla o nero eh. Allora questa è una maglia che è un sacco carina. Però io l'ho già provata tutte queste cose quindi vi so dire. È troppo larga. E ho preso la 44 italiana. Largo il modello. Cioè è troppo troppo grande. Però indossata è un sacco carina. L'ho pagata 13,55. Quindi visto che ho fatto un altro ordine che tanto poi mi dovrà arrivare. Ho preso una taglia più piccola perché questa la voglio tenere. Però questa appunto era troppo grande. Poi. Allora questo è il primo paio di pantaloni. Mi sono andata la pazza giochia con i pantaloni di pelle. Perché ne devo trovare uno. Questo qui non ve lo riapro neanche perché è stato un parto metterlo dentro la busta. Ve lo faccio vedere. L'ho pagato 35 euro. Ho preso una 46 ed è comunque troppo grande. Perché già il modello è over. Io mi sbaglio non leggo mai queste cose. E quindi sì è già grande. Però è molto figo il pantalone in sé. Sarebbe vedete questo modello qui. Non so bene se dalle foto. Si capisce lo stile. Poi c'è questo qui di Pull&Bear. Che mi pare fosse sì quello che mi piaceva. Che in realtà ha un taglio tipo jeans skinny. Quindi risulta poi in questo modo molto molto semplice. Questo mi piace veramente un casino. Solo che anche qui ho toppato la taglia. Nel senso ho preso una europea 42 che sarebbe quindi una 46. Però è troppo largo. E ho paura che poi anche utilizzandolo si strecci no? E quindi diventi ancora più largo. E poi perda quell'effetto skinny no? Quindi ho fatto un altro ordine. E l'ho ripreso in una taglia più piccola. Qui invece è di Bershka. Ed è un pantalone a zampa in pelle. Quindi il risultato dovrebbe essere questo. Che infatti non mi piace per niente. Perché a me le cose in pelle, soprattutto aderenti, o appunto mi piacciono tutte aderenti o tutte un po' over. Questo stile aderente poi cade a campana sotto essendo a zampa. Quindi sì, per carità, la taglia è carino, tutto quanto va bene. Ho preso se vi interessa una L. Però no. Stava a 20 euro. Ovviamente io ho pagato tutto con gli sconti. Perché quel giorno c'erano gli sconti. Altro pantalone. Questo qui è di Stradivarius Petit. Che non avevo notato forse della mia Petit. Ma comunque. Pagato 15,95. Ed è questo modello qui. Che è un sacco bello. Ma anche qui è troppo largo. Di questo purtroppo mi sono sbagliata. Perché non avevo letto che era europea 44. Quindi mi è arrivata una 48. E appunto non c'era più la taglia più piccola. Ultima cosa. Un paio di scarpe. È dato un po' in realtà che non compramo un paio di scarpe. E sono queste. Allora sono bellissime. Tipo stile Oxford. Però con la parasotto. Tipo caro armatino. Un po' chunky con la fibbia. Mi piacciono tantissimo. Il problema è che. Primo. Non so come abbinarle. O almeno non sempre. Quindi. Però sono comodissime. Perché dentro hanno tipo un cuscinetto vattato. Stupende. Poi. Non mi piace il fatto che siano lucide. E qui opache. Cioè. Se fossero state tutte opache. Probabilmente le avrei tenute. Perché avrei saputo meglio cosa farci. Quindi penso che purtroppo. Torneranno indietro. Dico purtroppo. Perché sono troppo fighe. Cioè. Io adoro queste scarpe così. Comunque in ogni caso. Anche come prezzo ci stava. Perché l'avevo pagata 31 euro. Poi. Altro ordine che mi è arrivato. Oddio. Ieri da Hazos. Qui ci sono un po' di cose interessanti. Il primo è sempre in realtà un pantalone. Di pelle. Che non lo so che cosa mi ha detto la testa. Che cosa. Che feeling avevo quel giorno. Ma è fatto così. Il tuo pantalone con questa roba sulla vita. No. Infatti così è stata una prova. Fine. Questo qui è un vestito. Pagato 35 euro. Questo è uno dei motivi per cui lo vanno indietro. Ma io l'ho preso perché era così. Cioè. Super figo dai. Per carità divina. Cioè. Adoro. Poi su di me. Ovviamente non. Non mi piace. È bellissimo perché di questo grigio antracite. Vi giuro il tessuto. Dovesse prenderlo solo per toccare il tessuto. Perché è morbidissimo. Non segna troppo. Questa è una cosa che ho apprezzato. Però è proprio il taglio che non mi piace. Questa manica così. Il fatto che ha questa mezza lunghezza. Quindi. Questo sicuramente. S'è tra il team. Torna indietro. Poi questa è stupenda. Questa mi piace un casino. Lilla. Sempre fatta così. Tutta traforata. Guardate che carina. A parte una punta di lilla. Stupendo. Ma poi. Vedete il fatto che abbia tutta questa cosa traforata. Voi vi mettete sotto una brelettina. L'avete fatto. È a manica corta. E ha un taglio anche questo over. Poi. Questa. Io l'ho presa. Perché non mi ricordavo. Evidentemente. Di aver preso quella di Shane. Perché è praticamente lo stesso pattern. Però questa è più corta. Questa è più corta. Infatti. Non mi piace. Come mi sta. L'avevo pagata. 22,99. Dico l'avevo. Perché ovviamente. Non rimarrà qui con noi. E risulta così. E poi. Ho preso questo paio di stivali. Che vi giuro. Io non lo so. Come mi ha detto la testa. Forse pensavo fossero diversi. Perché in realtà. Sono lunghissimi. Stivali. A coscia. Prezzo. 57,99. Vabbè. Ovviamente. Torneranno indietro. Che ve lo dico a fare. Perché io dovevo metto tutto sto coso. Però. Cioè. No. Lo stivale. Insieme mi piace anche. La parte proprio. Vedete. Del piede. Con. Il taccone. Così. Però. Non è cosa. Ovviamente. Seguirà. Alla parte 2. Tra. Poco. Ed eccoci ragazzi. Alla seconda parte. Di questo fantastico video haul. Che si prospetta. Molto. Molto. Lungo. Se continuano ad arrivarmi i pacchi scaglionati in questo modo. Oggi vi faccio vedere le cosine che mi sono arrivate da H&M. Non pensavo di aver preso tutto nero. Cioè. Nel vero senso della parola. Ma è. È tutto nero. Quindi sembrerà tipo tutta la stessa roba. Però. Come sempre. Mi mulirò del mio telefono. E cercheremo di capire. Partiamo dalle cosine. Vi faccio vedere come prima cosa questa. Che in realtà è un pantalone. Di cui però ovviamente ho sbagliato la taglia. Ultimamente sbaglio sempre le taglie. Non lo so perché. Ma invece di prendere tipo una 44. Io mi sbaglio e prendo la 44. Ma mi scordo che sul sito è scritto in europea. E nonostante il modello del pantalone sia comunque over. Quindi magari stai cambiando il bottone. Poteva fare eccetera. È veramente troppo. Troppo largo. In più vedete il pantalone dietro a questa cosa dell'elastico. Vedete come lo porta la modella sul sito. Questo qua comunque stava a 19,99. Se vi interessa che magari vi piace vi faccio leggere come sempre l'etichettina. Poi ci sono questi che sono dei leggings che in realtà credo che terrò perché mi piace questo tipo di tessuto. Non è acetato però sapete quella cosa un po' micro riflettente. Comunque è semplicemente un leggings nero. Tutta questa spiegazione poi è un leggings. Pagati 9,99. Poi questo è un toppino troppo carino vi giuro mi piace un casino. Sto cercando di capire se mi piace a tal punto da tenerlo e riuscire a metterlo perché ha un piccolo difetto. Che adesso vi faccio vedere. Corto e arricciato tutto sul davanti. Prezzo 9,99. Vedete così. Il problema è che io pensavo avesse le maniche leggermente più lunghe. Lo sapete che io ho il problema con le braccia. È una cosa che proprio non riesco a superare. Quindi o lo metto poi con qualcosa sopra oppure non lo so. Questo qui è un altro toppino che era super 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 figo. Mi piaceva un sacco che avesse questo dettaglio colorato. Comunque fatto sta che ha il collettino un po' alto. Vedete questa cerniera tipo giallo fluo. E poi in realtà è un semplice toppino corto con le maniche lunghe. Sempre ovviamente a costine che potete fare. Di questo ho preso una L perché mi ricordavo l'avevo provato in negozio e vestiva super 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 stretto. Nonostante è un tessuto molto elastico. E invece è corto comunque. Per i miei standard di toppino corto questo è un toppino troppo corto. E io o sono sicura di una cosa o non sono sicura. Poi io vado molto a prime impressioni. Purtroppo per fortuna. Quindi o una cosa mi piace subito appena la provo. E quindi dico ok la tengo. Se no è no. E quindi questo era tutto da H&M. Ragazzi noi ci vediamo per la prossima parte. Il prossimo skip temporale. Sperando finalmente ci sia la cosa di Shane. Che almeno sono un po' più particolari. Ed eccoci finalmente con la parte più attesa di questo video haul. Cioè la parte dell'haul di Shane. Che finalmente mi è arrivato. A pochi giorni dalla mia portenza. Ma ce l'ha fatta. Anche perché tutte le cose che vedrete e che ho ordinato. Sono tutte cose che mi servivano per comporre gli outfit da avere lì. Al concerto. Cose un po' particolari che io non ho nel mio armadio. Prendo il tutto molto randomico. Così come capita. Allora il primo è un completo due pezzi. Che è una giacca e una gonna. Pagati 16,60 euro. Che per due pezzi secondo me ci sta. A prezzo pieno stava leggermente di più. Stava a 19 euro. Però come sapete su Shane ci sono sempre un sacco di sconticini che potete mettere. Tre colori principali. Quindi c'è il rosa baby. Questo verdino salvia. Non so neanche come definirlo. E poi il retro è nero. E poi c'è la giacchetta. Quindi sotto poi ci potete mettere una braletta. Ci potete mettere un top. Ci potete mettere una maglia. Pure a collo alto è carina. E la giacca è fatta in questo modo. Quindi ha le maniche rosa. Le maniche verdi. Le tasche sempre. Insomma è tutto un po' un color block. Eccolo qui. E io ho preso una L. Qui c'è scritto europea. Dovrebbe essere una 40-42. Che in effetti secondo me ci sta come misura. Anche se secondo me best è anche una 44. Perché io porto una 44. Mi sta bene. Anzi la giacca è anche un po' over. Devo dire che con quest'ordine rispetto all'ultimo che ho fatto. Sono stata un po' più fortunata. Per fortuna ripeto. Perché altrimenti non so come avrei fatto per gli outfit da portarmi. Altro capo. Vediamo cosa mi capita. È un toppino. Di questo ho preso un XL. Perché tutto ciò che riguarda tipo appunto top, bralettine, reggisenini. Tendo sempre a prendere una taglia magari un po' più grande. Perché avendo tanto seno. Altrimenti essendo queste taglie con quasi adiche piccoline. Ci sono sempre un po' di problemi. Alla chiusura davanti così. Con gli anellini. E poi è fatto tipo in ecopelle. Questo ve l'ho fatto anche vedere indossato oggi su Instagram. E ha questa sorta di mini V. Che va a creare nella parte centrale. Questo qui l'ho pagato 5,30€. Poi questa è una di quelle magliettine. Vedrete diverse. Perché appunto la mia idea era quella molto spesso di mettere top, bralettine. Sarò ripetitiva. Con questi toppini magari un po' più tipo trasparentini sopra. Così da essere coperta. Ma non totalmente coperta. Questo qui l'ho pagato 6€. Ed è un top fatto così. Quindi di maglia. Trasparente nera. Con le farfalline viola. E di questa ho preso una L. Che corrisponde sempre. C'è scritto qua sull'etichetta. Ah no. 40, 42. Poi vi prendo un'altra maglia di questo stile. Che però non è effetto trasparentino. Ma ha questo effetto marble che va tantissimo adesso. Questa qui l'ho pagata 7€. E risulta appunto così. Però è molto carina. Il tessuto è bello elastico. Confortevole. Il viola. Ragazzi, il viola di Shane. Non lo so se è una cosa loro. Ma sono bellissimi. Super vibranti. E sempre miscelati con un po' di lilla. Bello, 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 bello. Infatti questa maglia in teoria ha base bianca. Io di solito non è che vado molto d'accordo con il bianco. Però magari se ci metto una giacchetta nera. Anche di pelle sopra. Mi va a richiamare un po' quello che è il mio look. Poi questa qui è una maglia. Che in realtà adesso vi ve la faccio vedere sull'applicazione. Perché pensavo fosse diversa. Pensavo venisse anche con parte sotto. Tipo manica trasparentina. In realtà è solo la t-shirt. Quindi non avevo letto bene le descrizioni. Vedete come ve la fanno vedere sul sito. Quindi pensavo fosse un pezzo unico. Anche con il guantino. Tra l'altro Candy or Biscuits. E poi ci sono le caselline Candy Biscuits. Con la V sui Biscuits. Così. Ho preso anche di questa una L. Ed è larghissima. Occhio alle taglie. Ma tanto in teoria se leggete le recensioni su Shane. Riuscite a regolarvi un po' meglio. E questa qui in teoria l'avevo pagata 9 euro. Poi altra maglia. Ha più farfalline. Più piccole. Però il tessuto insomma è sempre uguale. Però questa calza un po' più corta. Vi prendo sempre un altro toppino. Questo qui si chiama maglietta blocchi. Infatti ha questa fantasia qui. È un sacco carina. Ma è tanto corta. Questa qui è tanto corta. Però si vedeva anche dal sito. Quindi ci sta 5,30 euro. Appunto fatta in questo modo. Sempre su lilla. Manica tutta lilla. E qua c'è la parte un po' più scura. Poi vediamo se mi capita qualcosa di nero. Perché tutte cose colorate no. Però insomma. Questa qui è una maglia. Nera. C'è letteralmente con sta tascona davanti. Che sul sito sembrava diversa. Adesso la faccio vedere. Insieme al suo tutone. Cioè faceva la sua porca figura. Cioè vedete sembra una cosa molto swag. In realtà me la sono provata. E sembra più la maglia di un pigiama. Quindi se la terrò probabilmente la userò come pigiama. E questa l'ho pagata 8 euro. Ho preso un XL. Che è tanto larga. Poi. Allora. Questo è uno dei pezzi. Che. Di cui ero più curiosa. Perché. Non so se avete visto. Ce l'ho anche come sfondo il telefono. Questa esibizione. Black Swan. Che hanno fatto al concerto online. Che c'è stato di recente. Specialmente John Good. Aveva questa sorta di blazer corto. Visto che insieme alla mia amica ci siamo messe d'accordo. Per portarci tutte ste body chain. Tutte ste robe un po' così. Ho detto fammi vedere. Cioè mi prendo un blazer. Ho visto questo. Ho detto no. Beh è identico. Ci sta tutto. Tra l'altro le spalline imbottite. È fatto molto bene. Ho preso un XL. Che qua mi dice 44 europea. In realtà ci sta come misura. Qua in questa foto lo tenevo aperto. Però è molto corto. Cioè arriva proprio sotto al seno. Basta. Quindi ho paura di avere freddo. In ogni caso è molto carino. Anche se sul sito mi dava anche che aveva una cinturina. E qui non c'è niente. La cosa del genere. 12 euro. Quindi come prezzo ci sta tutto. Tutto tutto. Allora questa è una maglia a crop. Fatta proprio in maglia. Sempre a costine. Se vedete il toppino classico nero corto così. La particolarità sta nel fatto che ha questi guantini. Questi accessori. Mi piace proprio un sacco quando ho i guantini, le cose, le maniche hanno il buchino per il pollice. Fate conto tipo come sto oggi anche. Voi vi mettete la vostra t-shirt e poi avete il guantino che vi fa da continuo. E questo qui l'ho pagato 7,90 euro. Ah, un'altra cosa nera. Che cos'è questa? Non lo so. Ah, ok. Questo è il vestito. Non so se vi ricordate lo scorso haul di Shein. Avevo preso un vestito nero basic. Un mini dress nero. Che però scendeva tutto attillato. Ecco. Ho provato a riprendere un altro modello. Questo mi piace un po' di più. Anche se ha sempre il problema che alla fine rimane un pochino aperto. Quindi non cade proprio aderente. Però magari riesco a metterlo in qualche modo. Ho preso sempre una L. Pagato 7,90 euro. Vi faccio vedere sulla modella com'è ma insomma è un mini dress vedete semplice così. È comodo da avere insomma. Questa qui è una maglia che io l'ho provata prima però non mi piaceva come stavo. Quindi non mi ricordo come l'avevo vista sull'applicazione. Sarebbe questo toppino qua. Trasparentino con le maniche svasate sulla parte delle mani. Però non so come abbinarla. Quindi devo un attimo capire. Vedete com'è fatta sempre di retina e poi davanti a... Tutta questa parte qua aperta così. Di questa ho preso sempre un L. Poi questo è una di quelle cose che non ho neanche misurato perché stiamo sicura non mi stia. Perché è leggermente piccolino. Proprio di coppe. Qui c'è scritto braletta a coste che doveva venire una cosa così. Quindi magari riesco a indossarlo togliendo le coppine. Non lo so. Devo vedere. 4,40 euro. Ah ok qui di questo c'è scritto infatti one size. Questo qui è un altro set. Allora sempre nero ovviamente a costine. Il toppino è fatto in questo modo. Con le bretelline così. E davanti ha queste rigozze carine. 12,35 euro. Vedete l'effetto è questo qui. E infatti sopra ha questa sorta di coprispalla. Va a lasciare solo questo pezzetto aperto. Quindi fa quel gioco figo. Tant'è che vi faccio vedere un altro set. Questa volta è Lilla. E' composto da il maglioncino che è gigante. Cioè largo largo largo. Però è caldo. Ed è morbidissimo. E' un, vedete, un maglioncino tipo cardigan sempre corto. Di questo Lilla bellissimo. Ripeto c'è il Lilla e il Viola di Shane. Sono una cosa assurda. Questo qui l'ho pagato 14,99. Fatto in questo modo qui. Sono rimaste le ultime tre cose. Quindi vi faccio vedere prima il pezzo grande. Che è fighissimo. Di questo ho preso un XL perché lo volevo un po' più largo. Come l'ho visto poi sulla foto. L'ho pagato 9,70 euro. Vedete? E' fatto in questo modo qui. Lo utilizzerò perché è totalmente nel mio stile. Ed è appunto un top in retina. Però è una retina piccola piccola. E corto. Quindi sotto appunto ci mettete il vostro top. La vostra maglia. Quello che è. E poi avete tutta la parte così. E' veramente figo figo figo. Le ultime due cose sono due toppini. Che ho preso sempre appunto da mettere sotto quelle maglie trasparentine. Sotto un po' di cose. Allora il primo è quello che avete visto nella foto di prima sotto al blazerino. Per intenderci questo. Con tutte ste cinghie e tutte ste cose. Ho preso sempre un L. Sono già elasticizzati di per sé. Quindi forse tornassi indietro e ho preso un M. Però magari poi l'M non mi stava di coppa. Perché già ho faticato a posizionarle lì dentro. Ed è stupendo. Cioè in realtà è bellissimo. Cioè è fatto in questo modo. Vedete? Con queste cinghie che poi vi fanno tipo da decorazione qua sul décolleté. 6,10 euro. Vedete? Sul sito lo fanno vedere così. Ultimo toppino. Questo qui è un po' più stile bralette perché c'ha il pizzo. Si chiude dietro sempre con i gancettini. E poi è fatto così. Infatti appena l'ho visto ho detto no vabbè ma dove vado con questo coso? Cioè dove mi entra? In realtà entra. Anzi è anche tanto elasticizzato. Questo qui l'ho pagato 6 euro sempre. Ho preso un L. Visto che alcune di queste cose le dovrò mettere probabilmente senza reggiseno. Ho preso dei sostegni extra quindi questi che sarebbero quelle ventose che voi lo mettete sulla parte del seno. Poi questa va attaccata sopra ok? Per sostenere il tutto. Vediamo come li chiamano qua. Copri capezzolo a forma di orecchie di coniglio. Non è caso. 2,60 euro. Quindi poi vedremo. In teoria dicono che tengono bene quindi... Boh. Poi questo qui vi starete chiedendo che cos'è. Questo non è coia ma è comunque un coalino. E sono dei guantini a rete glitterati. E l'effetto è più o meno questo. Non mi convince troppo l'effetto glitterato. Onestamente. Se non ci fosse stato forse sarebbe stato un pelino più carino. Poi c'è questo che è una cosa fighissima. Che è una sorta di braccialetto anellino tutto collegato. E quindi farvi questo... Questa cosa qui è molto carino dai. Se stringiamo poi il bracciale viene così. Per provare cose nuove. E poi due paia di occhiali. Allora uno è un occhiale da computer che ho preso perché ha le lenti blu. Quindi va a coprire quelli che sono appunto i raggi degli schermi in generale. Sapete che ho di recente fatto l'operazione laser agli occhi per togliere gli occhiali. Quindi ho detto una protezione in più fa sempre comodo. Li ho pagati 3,70€ quindi proprio così. L'altro occhiale invece è un po' più stylish. Però è sempre trasparente con le lenti viola ma di un viola un po' diverso. Ed è fighissimo perché vi fa vedere tutto non viola ma con i colori freddi. Cioè è tutto raffreddato. E questo qui l'ho pagato 2,40€. Che devo coprire dal sole? Se sa. Vabbè. Io partirò con 70 occhiali da sole praticamente. Poi tutte con le lenti viola. Sono scontata. Anche perché anche la prossima cosa è viola quindi vabbè. Ed è una borsetta trasparente. L'ho pagata 9€. Vi spiego perché la borsetta trasparente. Non perché mi piaccia. Anzi è una cosa che non sopporto. Però l'ho dovuta prendere per forza perché al concerto lì al SoFi Stadium ti fanno entrare solo con la borsetta trasparente. In modo che penso si accorci anche il controllo delle borse, cosa c'è dentro eccetera eccetera. Anche per una questione insomma di sicurezza. E quindi ho trovato questa che è super carina. Ha la tracolla. Poi è trasparentina. Ha la catena che però mi sa che toglierò. Quindi sarà solo la borsetta. E qui ha un bottone calamitato per aprire e chiudere. In realtà è anche molto capiente. Vi faccio l'esempio con il telefono. Tanto poi mi porterò più che altro telefono, power bank, portafoglio, quello piccolo che vi ho fatto vedere anche nell'altro haul. Insomma tutte cose piccole che ci possono stare. E quindi sono molto contenta del mio acquisto. Detto ciò spero questo haul anche se infinito, lunghissimo, vi sia piaciuto. Vi leggo come sempre nei commenti e noi ci vediamo presto. Non so adesso quale sarà l'ordine in cui caricherò i video prima di partire. Ma forse questo sarà l'ultimo prima di quelli di Los Angeles. Quindi buona visione per i prossimi. Per ora vi saluto e ci vediamo presto. Ciao!